Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 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 ad dissipare ogni contentezza. Il cura dell'uomo è tanto fedele che non la più velenosa infedeltà arriva a avvelirlo. È tanto buono che la dolcezza arriva a conquistarlo. È tanto grande il cura che arriva a tenere dentro tutte le scontradizioni e c'è in tutti i oms. E Dio alle luni che sa la strada per conoscere arriva al cur dei oms. E sulla croce anche l'uomo ha avviato il cur di Dio che vuole conoscere i suoi pensieri. Buona giornata e buona vita!